Guardate la selezione che abbiamo fatto di tutte le foto che sono uscite, eccole, le foto che sono uscite sui quotidiani internazionali della Presidente del Consiglio che fa così. Tu che idea ti sei fatto di tutto ciò? A me quello che ha preoccupato della sceneggiata da Bagaglino, la pantomima da Bagaglino, è che in quella sede, che è il Parlamento della Repubblica Italiana, si stava decidendo quale atteggiamento e posizione avrebbe dovuto assumere il nostro Paese, il nostro Governo, che è il Governo di tutti, a un Consiglio europeo che doveva decidere del nostro futuro o di guerra o di pace. Cioè era un momento che richiedeva una postura all'altezza della drammaticità del momento. E invece è finita a Pulcinellate, a Tarallucce Vino. Credo che se non era studiata, certamente chi conosce la Meloni sa benissimo che quelle sono le facce che fa comunemente, perché ha tanti difetti, ma non è antipatica, è simpatica. Quindi fare la pagliaccia, fare le battute le piace. Il problema è che non riesce mai a calarsi nel ruolo istituzionale e quindi è sempre fuori fuoco. E tanto più in un momento drammatico come questo, dove si decide un futuro a tinte fosche, se non si cambia indirizzo. E lei finisce con la giacca sulla testa, con le faccine. E poi infatti è tornata dal Consiglio d'Europa e ha detto che non ha trovato nessuna differenza dalle altre volte. Le altre volte decidevano delle dimensioni delle zucchine. Stavolta devono decidere sugli eurobond da 100 miliardi all'anno per comprare armi per fare una guerra. Se lei non ha notato la differenza, capisco perché fa le faccine, ma mi preoccupo perché allora è il Presidente del Consiglio che non si rende conto del momento che stiamo vivendo ed è il ruolo che potrebbe giocare l'Italia se facesse qualcosa.